D'ora in poi avrete una padrona, non un padrone. Volete sposarmi? Nell'austera Inghilterra vittoriana. Signor Oak, non voglio un marito. Odierei essere una sua proprietà. Una giovane donna, fiera e determinata. Se perdo la fattoria non ci sarà un futuro per nessuno dei due. Dividerà il suo cuore tra amore e libertà. Io voglio che voi diventiate mia moglie. Illudere qualcuno che non vi interessa non è da voi. Non posso permettere a un uomo di criticare la mia condotta. Sono tuo marito e devi obbedirmi! Tratto dall'omonimo romanzo di Thomas Hardy. Credo di conoscere il vostro segreto. Via dalla pazza folla. Mercoledì 21.10, Rai Movie.